Attenzio! Questo giro di video nuove c'è gravamente sul saluto del vostro portafoglio. Collezionisti! Oggi siamo qui sul canale con la bustina Premium Oro Adrix A2324. Bustina Premium Oro che come ogni anno esce in questo periodo. A prezzo come sempre di 10 euro con all'interno 17 cards. Voi vi starete chiedendo ma il prezzo è molto alto. Regà, tutti gli anni è così quindi non lamentiamoci. All'interno di questa bustina da 10 euro potremo trovare le 4 cards limite di 11 Premium Oro più ovviamente una bustina Premium. E poi ovviamente c'è sempre in aggiunta la card Premium Oro Online. Io regà ve la butto lì se volete vedere su questo canale un box premium spacchettato tutto in un unico video. Regà sto intendendo il box con all'interno delle bustine da 5 euro l'una. Vi chiedo di sfondare fate un tasto like. Poi dopo la bustina Premium Oro il video non finisce qui perché abbiamo metà box da aprirci. Con metà box si intende 12 bustine quindi spero di aver azzeccato le 12 bustine perché se no mi manca il top player di questo box. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, sto proprio qua sotto. E comprate i dati gratuiti dove siete questo è un canimatico insomma come il sottoscritto. E ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi sui social, instagram, tiktok, regà su Instagram. E mettete sempre certo tutto, rook, uscite, esaurite e quant'altro. Regà stoppa le chiacchie e andiamo a fare sto fucking unboxing della bustina Premium Oro. Vamonos! Collezionisti eccoci con pronti a spacchettare la bustina Premium Oro da 10 euro. E all'interno 4 limit edition più 2 super esclusive di questo pacchettino. Regà io partirei così come per la team box con un pacchetto classico da 1 euro. Vediamo cosa ci esce, speriamo subito nel top player, taglie. Facciamo come sempre il classico trick. E devo aver sbagliato qualcosa perché il codice me lo sono trovato davanti. Comunque abbiamo altare, poi abbiamo hoidoink del Bologna, klitten del frosinone, salemekas che lo gioco al Bologna, scudetto del Lecce e i lazari. Potevamo certamente partire meglio, però ora concentrazione perché si va a spacchettare 10 euro di pacchetto. Andiamo a fare subito l'unboxing e vediamo la bustina. Allora per 10 euro all'interno di questa bustina cosa troviamo? Abbiamo una bustina premium con all'interno 6 cards base, 3 speciali più una limited edition. Tra l'altro potrebbero essere anche firmate, quindi non male. Troviamo le 4 limited edition premium oro. E in più, regà, qui sotto c'è scritto che troviamo anche 2 cards esclusive limited edition. Andiamo a staccare il pacchetto dal suo foglio. Regà l'ho letteralmente distrutta, ma ora andiamo a vederla comunque va. Abbiamo la bellissima card premium oro online collezionabile, ovviamente, mettiamola qui. Poi abbiamo Turati, limited edition, Lovric, limited edition dell'udinese, poi abbiamo la bell, mamma mia, veramente bellissima. Churria, limited edition premium oro, veramente stupende. Biraghi, premium oro. Artwork incredibile per questa Golden Boy di Fagioli, limited edition, veramente stupenda. E poi abbiamo anche la premium oro di single. Regà, veramente nulla da dire. Artwork ovviamente è mozzafiato, vi vanno letteralmente impazzite queste 4 card. Ora andiamo però con la bustina da 5 euro che si trova all'interno di questo pacchetto. Vi ricordo di sfondare il tasto like se volete vedere un box pacchettato pieno di bustine premium da 5 euro. Andiamo a vedere. Questo è quello che possiamo trovare al suo interno. 10 card, 6 base, 3 card speciali più 1 esclusiva, limited edition. Subito a vedere. Ok, regà, non so come girare il trick in questo caso perché sono più card del previsto. Comunque abbiamo il codice che ovviamente vi regalo è vostro. Poi abbiamo la limited edition di Lorenzo, Lollo, Pellegrini, il capitano della Roma, quindi questa è la nostra limited. Stella di Immobile, poi abbiamo Diamante, Pirola che ovviamente già ho così come Stella Immobile, Portione del Montipò, già ce l'ho. Cragno del Monza, Locatelli della Juve, Colpani del Monza, Rachmani e Zappa del Cagliari. Dietro, regà, ce n'è un'altra che è Coop Miners. La limited edition di questo pacchetto è Lorenzo, Lollo, Pellegrini. Dobbiamo tornare ora tutte le altre aspettando che escano in edicola. Ora però concentriamoci con i prossimi 11 pack rimanenti. Speriamo, regà, qualche bel top playerino, speriamo. Diamo, dai, vamono. Se dai. Classico. Ma no. Regà, non ho la più paglia dell'idea di come fare il trick, comunque Deron dovrebbe mancarmi, buono. Il ciolito Simeone, poi abbiamo un difensore che è Malik Chao, la card con il codice che vi regalo. Portiere, che è un portierone Provedel. Doig dell'Ellas e Acerbi. Scrollati nella tattica e vediamo cosa ci fucking esce. Nico Gonzalez della Viola, Parisi dell'Empoli. Poi abbiamo l'imparabile del Milan, che tra l'altro ce l'ho a codice. Poi abbiamo un difensore che è Energy Bellanova. Pacquini del Frosinone e Dragosin. Ti prego, panni, fammi uscire qualcosa di incredibile, grandioso, qualcosa che posso essere fiero di aver giunto in collezione, dai. Partiamo con Boulat dell'Ellas Verona. Poi morrà Donic del Torino. Passiamo alle rare, che ovviamente sono in mezzo in questo caso. Paffundi di avanti non male, però già ce l'ho. Codice, centrocampista, che è la Energy di Araui. Bonazzoli e Bove. Prossimo. Dai, signori, dai, dai e dai. Let's go con Gudmundson del Genoa. Abbiamo Mazzitelli del Frosinone. Poi abbiamo Brancolini del Lecce. Caputo del Lempoli. Poi abbiamo un difensore che è Rachmanis. Stella potrebbe essere interessante. Codice. E poi abbiamo chi è? Ah, sì. Ti prego, ti prego. È ora il momento giusto per farmi uscire qualcosa. È ora, dai. Di Gennaro, portiere dell'Inter, che attualmente è il terzo. Abbiamo Terracciano dell'Ellas. Codice che vi regalo, al contrario, prendete velo lo stesso. Un attaccante, penso che la rara si è Energy Pulisic. Poi abbiamo Tamez, Schurz e Maxi Lopez. Sto incominciando un po' a piangere. Vediamo il prossimo pack. Boinen della Salernitana, Danilo della Juve. Poi abbiamo... Oddio! Multiruolo vuole dire solo una cosa. Può voler dire solo una cosa, regà. Invincibile. Zoom! Card! Invincibile trovata. Vamolos! Questa, regà, la volevo. Mi mancava e la cercavo. Bomba! Il codice che vi regalo. Lo scudetto del... È l'Asverona. Poi abbiamo Scalvidi dell'Atalanta e Pets. Mamma mia, finalmente riesco a trovare qualcosa anch'io. Invincibile, aggiunto alla mia collezione adrenaline che mi mancava. Ora me ne mancano altre. Tra l'altro, ragazzi, tengo a dirvi che il leo doppio del top player che avevo l'ho scambiato con Miliko Izzavic. Ci mancano cinque pacchetti. Vediamo se riesce a uscirci una bella momentum da... Cubmeyers dell'Atalanta. Il baronetto Cavallo Pazzo Ravio. Svilar della Roma. Mancosu del Cagliari. L'attaccante raro che è Delufi potrebbe mancarvi. Buono. Codice. E l'ultima che è del Genoa, che è Rogerio. Prossimo pack. Dai, dai, dai. Vediamo, vediamo, vediamo. Zappa del Cagliari. Barro del Bologna. Poi abbiamo un difensore che è quella rara peso. Sì, Diamante o Iono già ce l'ho. Codice che vi regalo. Difensore. Backer Energy dell'Atalanta. Zitolo, Bumbo e Dominguez. Ci mancano gli ultimi tre pack, ma posso dire di essere molto, molto soddisfatto. Dai. Cragno a partire del Monza. Pasaric dell'Atalanta. Poi abbiamo il codice. Scudetto, in questo caso, del Lecce. L'ho già trovato un regalo, tipo qualcosa come un milione di volte. Ternandez, Milenkovic e l'ultima è... Valucewicz. Penultimo pack di giornata per noi. Vediamo già subito lì la rara. Subito lì che ci guarda. La Energy di Bissek. Poi abbiamo il codice che vi regalo. Doig, Diamante. Poi abbiamo preso tutte le card normali, che sono Stingo, Berardi, Brock e... Zambia. Scrollatina tattica. Vediamo l'ultimo pacchetto che ci dà una gioia. Oppure no? Facciamo il trick che prima sembra funzionare, ma mi sa che non è questo il caso, perché... Ho già visto qualcosa come lo scudetto del Cagliari. Brenner, codice, scudetto che dovrebbe essere del Cagliari, sì. Rui Patricio, della Roma. E poi abbiamo Milik. E l'ultimissima è... Casale. Ragazzi, che dire? Sicuramente la card più importante trovata oggi è l'invincibile. Anche se come Artwork e le card premium oro veramente sono veramente incredibili. Cioè, ragazzi, ma guardatele qua quanto sono fucking belle. Soprattutto a questa di fagioli. Però con questa bellissima invincibile di Leao, Barella, Meret e Danilo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, suonare il tasto di like, iscrivervi su tutti i miei social. E vi ho detto grazie a tutti. Al prossimo video!